Perfetto, stavolta ci siamo. Come no? Stavolta ci siamo. Possiamo iniziare Undertale. Ok. Siamo online. Perfetto. Let's start. Perfetto. Ah, quindi non c'è in italiano. Monte Ibot. 200. La leggenda narra che... Kline, quindi chi si arrampica non torna più. Sì, chi scala la montagna. Qua è un personaggio che sale in Ciampa. E cade. E cade nel buco. Quindi chi cade nella montagna, non chi si arrampica dentro la montagna. Con la faccia a terra ti sarà rotto tutti i tempi. Ora esce tipo... Qua è la cima. Undertale. Divento cieco se si vede così tutto il gioco. Ok, quindi avevamo gli umani e le bestie che si sono dati guerra. Poi gli umani hanno vinto e hanno confinato le bestie sotto terra. Esatto. Con una magia. E poi c'era il monte che si chiama? Ed... Come che era? E già l'ho scordato. Non c'è italiano. Riesci a leggere questo? No, questo faccio un po' fatica. Va bene. Meno male... Meno male che tu la lingua la sai. Allora, bottone, vabbè, X conferma. Cerchio indietro. Sì. Cerchio indietro. Triangolo menu. Border. Non. Adesso io... Ah, ci può mettere pure il board. No, che carino. Steppia. Dynamic. No, io un board lo voglio. E il quale? Farei simple. Questo? No, questo, simple. Per me, quello con i fiori. Vediamo come va il gioco. Va bene. Allora. Ok. Già il concerto indietro non ci vado a andare su X. Vabbè, te l'hai memorizzato con i tasti, giusto? Sì, ma sono complicati. Allora, quando gli HP arrivano a zero, perdi. Ok. Anche se non sti a capire, scusa. I punti vita. Health point. Allora. Cos'è? Ah. Name the fallen human. È il tuo momento, visto che sei dare nomi ridicoli. The fallen human, addirittura. Come lo chiamiamo? Quindi l'umano che è caduto? Per cofio. Come lo chiamiamo? Immagino che avrà la faccia rotta sto tizio qua. No, vabbè, vabbè. Tu dici che è quello di là? Ah, fallen, perché dici proprio caduto? Si è caduto. Si è caduto. Senza buona cosa. E lo chiamiamo... Come lo chiamiamo? Chiamiamolo... Sono mali gli occhi queste lettere che si muove così. Non lo so, non mi viene niente. Fraberto. Fraberto. Rabarbaro. Rabarbaro. Mi piace il Rabarbar... Ma per se è Rabarbaro? Come lo vuoi chiamare Rick? Jim. Chiamiamolo... Lorelai. Perché Lorelai? Non lo so. Grazie per tutte le idee, eh. Veramente grazie per tutte le idee. Scelgo io? Sì. Cioè? Cioè? Ma che poi è uomo e donna, boh. Eh boh, infatti dare un nome... Magari ce lo chiede dopo. Allora lo chiamo... Ah, comunque ci sono pure le maiuscole e le minuscole. Eh? Eh. Cosa complicata. Chiamiamo Lulù. Ah, questa è la parte più difficile del tempo, questa è stata vera, basta. Chiamiamo Lulù come il nostro padre. No, no, poi muore. Devi fare morire Lulù. No. New. Come? New. New? Sì. Cioè? G-N-U. New. Ma che vuol dire New? Boh, è una lettera e tre parola, le lettere e le lettere a passare. Ah, perfetto. New, lo New l'animale. Allora, va bene. Diciamo... Vabbè, chiamiamolo come te. Lo chiamo... Beach. Billy. Billy Pomp. Ma perché Billy Pomp? Non lo so. Non si può neanche chiamare Billy Pomp. Chiamalo Billy's. Billy's. Con la Z finale. Ah, è solo Billy. Eh, Bill. 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 Dune. No, che nome, c'è. Eh, però calmati, eh. Che poi è B11. Ma è una cosa bruttissima. Ok. Ma comunque è femmina, allora. È una femmina, quindi è Bill. È Bill, allora. Ed è su un letto di fiori. Oh, è che cosa ho qui al menu? Ma cosa è qui? Oggetti e statistica. Bill, livello 1. 20-20. Scusami. Ma non si può neanche uscire dalla partita, cioè è così. Beh, non puoi fare nulla, cioè. No, posso solo andare avanti. Ok. Attacco 0, difesa 0, esperienza 0. Next, al prossimo livello 10, con che esperienza? Weapon Stick, quindi un bastone. Armatura, bandage, quindi... Pezze, c'ha le pezze al culo. Gold, 0. Va bene. Eh, questo qui è la caverna. Penso che sia il buco dove è caduta, insomma, caduto. Va bene. Insomma. A me sembra, dall'idea... Ma non puoi fare niente lì. Ma devo solo andare avanti. Solo andare avanti. C'è una porta lì, si trova una porta. Dentro la montagna. Dentro la montagna, con delle colonne. Con una specie di simbolo, con delle ali. Mh, sì. Comunque, a vederla così, sembra un po' Simpson, no? Simpson. Con sta pelle gialla. Vabbè. Un fiore. Un fiore. È una stampa tutta nera. Ovviamente. Udi. Udi. I'm Chloe. Chloe the flowers. Ok. Che vuol dire Udi? Un'esclamazione? Sì. Tento di sì. You're new to underground. Ah, lei è finita nel sottoterra dove sono stati confinati i mostri. Lei quindi dove ci sono i mostri. Sì, quindi questo qua gli sta chiedendo se è nuova qui. Ma perché i golli? So confused. Golli fa un'esclamazione. E mi sembra giusto. Vediamo come funzionano queste cose. Ma dobbiamo tradurlo? Sì, I guess little old me. I guess little old me we have to do. Ok. Che vuol dire? Traduci. Non lo so. Little old. Little old è un po' più vecchia. E che vuol dire quindi? I guess che vuol dire. Immagino. Immagino, penso. Quindi immagino. Avrai tanto da imparare. Avrai tanto da fare. Little old me. La piccola me. La piccola vecchia me. Si riferisce a se stesso il fiore. Ha da darti, ha da fare. Si, ti deve insegnare tanto. Si. Ok. Pronta? Andiamo. Dove andiamo? Lo vedi questo cuore? Ok. È la tua anima. Mhm. Il culmine del tuo essere. Del tuo essere. Ok. E si muove il cuore. Si. Ok. Livello 1, HP. Un quadratino giallo. 20 secondi. Off week. Vabbè, le statistiche iniziali sono deboli. Ma puoi aumentarle, puoi diventare più forte. Più forte. Se tu guadagni. Appunto. Ok. LV. Ah no. LV non sta per level ma love. Love. Ok. You want some love, don't you? Ok. Don't worry, I share some with you. Ok, quindi ci farà vedere come accumulare quest'amore. C'è cos'era con la faccia. Down here, qui sotto. Love is shared truth. Ok. Little white. Friendly... Friendliness. Pellette. Che vuol dire? Io non lo so, mo' aspetta. Informa. Friendliness. Pellette. Ah no, sono tutta una parola pellette. Si lo so. Sono tipo cosi d'amicizia. Pallini d'amicizia. Come cacchio dovevo dire. Questi piccoli cosi bianchi sono friendliness pellette. Pallini amichevoli. Ok. Sei pronta? Che devo fare? Li devo scantare o li devo beccare tutti in pieno? Boh, no. Move around, get as many you can. Ok, li devo prendere tutti. Ok. Ma è un bastardo. Te l'avevo detto che questo era cattivo, lo sapevo io. Ci sta dando dell'idiotica. Te l'ho detto, quello nel mondo dei mostri mi sembrava strano, stu fior amichevole. Che lo sapevo li dovevo scantare. Che stronzo. In questo mondo, è kill or be killed. Però questo qui è il gioco dove in teoria puoi anche non uccidere nessuno. Perché si lascerebbe scappare un'opportunità del genere? Sì. Ok, vabbè. Non li posso scansare questi. Quindi devo morire qua. No, no, no. Guarda il pezzo di me. No, no. Che è successo? Qualcosa ti ha salvato? Un fuoco ha colpito. Un fuoco. Una capra. Questo è inquietato il più inquietante del cuore. Del fiore. Non so, c'è pure innocent youth. Non essere spaventato. Io mi immagino come una pecorella. Non essere spaventato, mio piccolo. Sai cosa mi ricorda quello di... Sono Toriel. Non so perché. Ma chi? Questa pecorella lì. Ma chi di Promes Neverland? Non mi ricordo. Non a caso. Quelli che aiutano i bambini una volta che scappano. Ah, ok. Ok, i demoni. Sì. I'm Toriel. Caretaker of the ruins. Quindi quella che si prende, appunto, cura. Delle rune. Sì. Toriel. I path through this place every day. To see if anyone has fallen down. Quindi lei ci va ogni giorno, passa da là ogni giorno per vedere se qualcuno è caduto di dentro. Secondo me dovremmo tenere conto di sti nomi. Quindi segnateli anche così momentaneamente. Aspetta, come si chiama questo? Toriel. Toriel. Sì. Eh, dai. Ci sono i pennarelli. Oh, c'è qua. Che scrivi qui per il momento, puoi? Peccato. È dietro. È dietro. Allora, Toriel. Quindi abbiamo Toriel, che è il... Taker of runes. Quello si prende cura delle rune, va? Pecola lo chiamo. Pecola, esatto. Se non ce lo scordiamo. Ok, you are the first human to come here in a long time. Sì, ma anche questo è un mostro. Quindi come fai a fidarti di questo? Quindi da tanto tempo. E ha lo stesso simbolo. Se c'era sulla porta. Sulla porta. I will guide you to the catacombs. Ok, quindi siamo nelle catacombe. Bello. Sì, perché qui ci sto coprendo. Da questa parte. Hai tutti i figli. Da questa parte. A me sembra un po'... Eh, posso tornare indietro. Quello sembra un occhio comunque. No, io non ci vengo da questa parte. È un piattino. È bella in carne, perciò. Guarda la pancetta che sta di notte. 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 Ok, hanno interrotto la caduta. Ah, con X posso interagire. Eh, infatti non... È tutto per com'era. Eh, ma per forza devi seguire la... No, no, ci sono strade segrete qui perché sono dal buio. Questo è un occhio se ci fai caso. Allora, questo penso sia solo l'artwork. Ah, qui c'è un'altra porta ancora. Che è quella dove esibirà lei. Sì. E non ci sono altre porte. Non posso interagire. Per forza. È una chiesa, tipo. Ah, è una scala quella. Quelli cosa sono petali? The shadow of the rooms looms above. Bring you with determination. Che vuol dire? L'ombra delle rune looms? Che vuol dire? Non lo so. Killing you with determination. Ah, ok. Ok, mi ha curato praticamente. Ora posso salvare. Oppure no. Ruins è entrata. Livello 1 a 9 minuti. Ok, questa qui quindi è una cosa che cura. Un punto di cura. È questo di qua. Ok. Quindi ricordiamoci questo viola. Questa porta viola. Diciamo che cura. No, è la cosa gialla. Questa qui. Che cura. Ma il gioco sarà pieno di strada. Ok. Di sopra possiamo leggere. Possiamo leggere. No. Io ho appena vinto un trofeo. Vuoi. Ok, cosa no? Welcome to your new home in the end one. Ah, quindi noi siamo qui dentro. Vivremo qua dentro. Permettimi di educarti. Ad usare le rune. Ad insegnarti ad usare le rune. Che sto facendo? Ti ha fatto vedere come si apre. Le rune? Puzzle. Ah, ma le ruins è il nome del luogo. Le rovine può essere. Sì, le rovine. Sì, quindi lei abita nelle rovine. No, le rune. Perfetto. Infatti dice che le rovine sono piene di puzzle. Anzine fusions between directions. Door keys. Door keys. Che sarebbe? Vabbè, sono praticamente dal... Cioè, tipo, ti descrive questi endoinali. Questi endoinali che sono l'unione fra door keys e diversions. Ok. Door keys sarebbe? Non lo dice, ma sono porte chiave... Chiavi porta. Chiavi porta. Diversions. Deviazioni. Diversivi. One must hold them to move from room to room. Ok, quindi per andare da una stanza all'altra dobbiamo risolvere gli enigmi, praticamente. Please adjust yourself to the sign of them. Cioè? The sign? Sight è tipo... Quindi tipo, già preparati a... Sight è vista, spettacolo. Quindi abituatici, praticamente. Lì, per aprire quella porta lei ha usato quei... Sì, ora si chiuderà, io dovrò fare questa cosa. Only the fearless may proceed. Vabbè, quindi solo chi non ha paura può procedere. Coraggiosi, folli. Tutte e due. Both walk, not the middle road. Vuol dire... Entrambi camminano non nella via di mezzo. No. Ma che senso c'è? No, aspetta. Both walk, not... Entrambi... Not the middle road. Ah, entrambi non camminano nella via di mezzo. Sono gli estremi. E a che serve premere questi costi? Se si rivestito rientro. Sì, una porta è aperta. Eh, però guarda che si è alzato qui. E a che serve, scusami. Non si abbassa più. Con che ordine li aveva abbassati? Questo. Da questo? Avanti, no. Ah, così aveva fatto. Sì. La porca. Quindi, sto, sto, la porca. Scusa, le frecce, basta, così non posso sbagliarti. Così. No, quello non l'aveva premuto, solo 3 ne ho fatto un senso. No, 4 erano. E 4 erano. Ok. E poi ha premuto l'interruttore. L'ha premuto, non ti ha abbassato da solo. Boh, non mi ricordo. Non mi sembra interagibile. Vabbè, intanto, 4. Vabbè, vai dritto. Così no. Secondo me l'ha già aperto, quindi non si può riaprire. Semplicemente, secondo me, per questo. To make progress here, you will need to trigger several switches. Però, ovviamente, mi chiedi trigger, che significa? Trigger e innescare. Grilletto, innesco. Sì, sì, innescare. Quindi, per procedere, hai bisogno di innescare parecchi cambi. Non preoccuparti, I have labeled the ones that you need to flee. I have labeled cos'è? Etichettato. The ones that you need to flee. Sì, che servono. Sleepy warrior. È buon attimo da capovolgere, girare. Vabbè, ci ha detto, ci hai tichettato quelli che dobbiamo girare noi. Sì. Quindi? Ecco. Vabbè, stai attento a passare lì. Stai, rimani sul sentiero. Appunto. Non mi stai inno, scusa. A trovare i secreti. Sì. Sarà pieno di secreti. Non la tabi nell'acqua. No, perché, vedi? Lei ha fatto sti segni. Ma stai un po' premevole. Please press the switch. Ah, interruttore. Tore, ok. Capito? Quindi ha lasciato gli indizi al tutorial questo, praticamente. Ora qui ti dice. Please press this switch too. Premi anche questa e si abbassano le spine. Splendido. I'm proud of you, little one. Sono fiero di te. E cosmo tu te ne andiamo alla prossima stanza. Se io premo questo switch, non funziona. As a human living in the underground, monsters may attack you. Ok, quindi ci attaccano i monster. Quindi ci attaccano i monster. I monster ti attaccano. You will need to be prepared for this situation. Ok. Quindi ora ci alleniamo. However, worry not. The process is simple. Ti stegni a lottare. When you encounter a monster, you will enter a fight. Ok, sì. Quando incontriamo, entriamo in battaglia. While you are in a fight, strike up a friendly conversation. Addirittura. Quindi parliamo con i monster che incontriamo. Yeah. Stall for time. I will come to solve the conflict. Ah, quindi dobbiamo aspettare a lei. Stall... Che significa stallo, bancarella? Temporeggia. I will come to solve the conflict. Practice talking to the dummy. Ah, quindi il lottare è qui a parlare, praticamente. You encounter the dummy. Ok. File, act, item, mercy. Quindi act. Ah, che devo fare? Act. Ok, qui ti dice chi vuoi attaccare. Con chi vuoi parlare, oggetti non ne abbiamo. Mercy sarà la fuga. Sper, che cos'è pareggio? Forse. Mentre Flea scappa. Spera è scorta, li serve a risparmiare, perdere, evitare, evitare. E Flea? Flea. Fuggire, scappare. Spera che cos'è, scusami. Spera non mi convince. Spera. 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 Perdere, evitare, pezzi di ricambio, ricambio. Forse arrendersi. Forse sì. No. Act. Loom. Check, talk. Talk. You talk to the dummy. Vabbè, ovviamente non funziona perché non parla. Toriel seems happy with you. Quindi Toriel è contento. Hai vinto. No. Hai vinto, you heard? Zero esperienza e zero gold. Very good. You are very good. Posso ripetere la cosa? Secondo me però è una trappola. Non bisogna parlare con i mostri. E invece sì. C'è la possibilità di non ucciderli, io non uccido nessuno. C'è un altro puzzle in questo ruolo. E' chiedo se puoi solverlo. Ok. Ok, spero che puoi risolverlo. Dove è questo puzzle? Cos'hai fatto? Ho sfruttato una rana che mi attacca. Attacchi. Attacchi. C'è la faccia sopra e la faccia sotto. Vedi c'è pure la faccia sotto che apre e chiude gli occhi. Quindi io dico act, forget, check, compliment e treat. Check non è tipo cerca. Non è cercare, sì. E cosa? Complimentati e treat. Treat e trattare. Una cosa tipo imbrogliare. E minaccia, pericolo. Ah ok, quindi minaccia praticamente. Complimenta allora io direi. Ok, fai complimenti. Non capisce cosa dici. Butch was fluttered anyway. Fluttered, cioè. Significa lusingato. Ok, comunque si sente lusingato. Non capisce. Poi arriva, ok. Arriva Tariel. Toriel. E lo manda via. Learn. Ok. E quindi. E niente. The western room is the eastern room's blueprint. La stanza a ovest. La stanza a ovest. Eastern room's blueprint. Blueprint che vuol dire? E' colorata col blu. No, il complesso. Is the eastern room's blueprint. E' il blueprint della stanza est. Aspetta. Sarà la copia, secondo me. Come progetto? Il modello piano scacchema. Vabbè, è una copia. Ok, quindi la stanza a sinistra è una copia della stanza di destra. Ok. Ah, ok. Devi seguire, mi sa, il sentiero. Capito? Ah sì, cavolo, lì hai ragione. Il sentiero com'è. Hai proprio ragione. Partendo da là. Da sotto. No, da là. Capito? È in questo modo. Quindi devi partire da qua. Da qui? Sì. Su. Giù. Giù. Su. E come fare a capire quanto ti devi? Come una foto. No, io non posso camminare, non posso fare niente. This is the puzzle, but here, take my hand for a moment. Ah, ok. Mi fa vedere. No, vedi, era partendo proprio da sinistra, perché ora riscende. Fa tutto destra, poi risale e sinistra. Perché era lunga? Quanto era lunga quella di sinistra. Ma qui tutto si abbassano. No. No, no, no. You have done essentially to swallow my child. However, I have a difficult request to ask of you. I would like you to walk to the end of the room, by yourself. Ok, ora siamo soli, ovviamente. Forgive me for this. Perdonami? Sì. Ok. Comunque è inquietante da morire, sta situazione che ci soppessi, eh. Perché? Ok, a me non viene la fidarmi per nulla di sta capra, vecora, capra. Ha le corne una capra. Secondo me era più infame di tutte alla fine. Ma secondo me è tipo una stanza infinita. Se è qualcosa di non va. Sembra che sta durando troppo questo corridoio. Una colonna. Qual è il problema? Ma perché se mi fermo la colonna? Ah. Ok. Greetings, my child. Don't worry, I did not leave you. Ah, quindi era questo qui il discorso, l'attraversare da solo la stanza. La cosa così. Sì. I was married behind this pillar the wartime. Ah, che ha osservato di nascosto. Thank you for trusting me. Grazie a te fidato. However, there was an important reason for this exercise. Ah, quindi l'esercizio era quello che... Doveva fidarsi di lei. Noi dovevamo andare soli fin là. Eh, infatti... To test you, I must attend to some business and you must stay alone for a while. Ok. Ok, rimani qui. Ok. It's dangerous to explore. You have an idea. I will give you a cell phone. Praticamente ci sta dicendo aspetta qui, non ti muovere che ho delle cose da fare. Ma ti do questo telefono. If you have a need for anything, you just call. Ok. Be good. All right. Ok. Stammi bene. Quindi hai detto, stai fermo lì. Sì, non ti muovere. Non ti muovi. Tu cosa farai? Non lo so, ma stai fermo per tanto tempo. Cioè, ne posso stare qui ora dieci minuti ad aspettare. Hai saputo il cellulare, però, vedi? Say hello about yourself, color mom, Bert. Clara. Ma con chi? Color mom. This is tutorial, eh? Could you just call me mom? Well, I would say, make you happy, would say, make you to call me mother. Well, then call me whatever you like. Ah, ok. Comunque noi ti chiamiamo sempre tutorial. Ah, e poi scompare una volta che lo facciamo. Sì. Allora chiamiamo. Dai, arrivi. This is tutorial. You only want to say hello. Well then. Well then. Hello, I have the surface here. Ah, ma, le auricolari. Forse erano rimasto incastrati per me. Sì. About yourself. This is tutorial. You want to know more about me? Sì, vogliamo sapere altro su di te. Well, I'm afraid there is not much to say. Che sono dispiaciuta, non c'è molto da dire. I'm just a silly lady who works. Silly che vuol dire. I'm just a silly little lady. Saluta. Stupido sciocco. Sono solo una sciocca piccola donna, lady, signora, che si preoccupa troppo. Sì. Però il diologo della mamma ce l'ho dato solo una volta. Oh, allora, I call pinch your check. Pinch your check. Sure. Dobbia essere le guance. Sì, secondo me pure. You can certainly find better than an old woman like me. Ah. Perché io ho selezionato il flirt. Quindi flerta. E ha detto puoi trovare di meglio. Di una donna anziana come me. Babbè. Eh, che dobbiamo fare? Quindi aspettiamo. Se io lo flerta l'abbiamo fatto. Poi l'abbiamo chiamata madre. Hai sentito lusingata di essere chiamato madre. Flerta ovviamente non funziona. Proviamo ad andare un attimo indietro. Proviamo a fare un attimo quello che dici. Comunque, lateralmente disposta, sembra di così più veloce che avanti. Poi non tornare indietro 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 indietro. Non c'è più. Ma cosa hai visto? Eh, non lo so, un lombrico o un uccellino, non so, un piccolino. Ah sì? Sì. E tu te la sei... persa. Vabbè, riguarderò dopo la clip. Oddio. Vabbè, qui è facile. Come? Ah. Tanto non posso morire perché non... Guarda, anche se ci vado di sopra non muoio. Ma che credi? Eh no, vedi che stavo tentando di andarci sopra, guarda. Vedi? Non ci puoi andare? No. E perché? Eh, perché sarà tipo il tutorial, quindi... Qui c'era la rana. Spermiamo giù. Quindi non possiamo fare più niente questo... No. Io tornerai. Non pensavo avessi vista una cosa gialla tipo questi simboli al muro. No, no. Secondo me è qui. No, solo quelli di mezzo voglio premere. No. 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 Allora possiamo salvare. Sì, va bene. Salva. Salvato. Proviamo a tornare proprio all'inizio. Inizio, inizio. Comunque mi è dispiaciuto troppo farmi fregare da quel fiore all'inizio. E niente. Comunque già mi sento abbastanza inquietato da questo gioco. A pensare a pensare questo personaggio, l'umano che è caduto dentro sta montagna e si è trovato davanti. Prima un fiore che l'ha aggredito cercando di ucciderlo. E dopo sta specie di capra parlante che sembra un prete che gli dà il benvenuto nel mondo dei mostri. E ti ricordi più o meno dov'era? Sì, per se tu puoi. Su Stafira? Più su, più giù? No, sta qui lì. Ripassi alla Michael Jackson. Porca miseria. Mezzo secondo mi sono distratto. E niente, andiamo avanti. Direi di aver aspettato abbastanza. Ricontrollato dietro la... La colonna. E non ci posso andare dietro la colonna. No. Toriol, dica. Non hai lasciato la stanza. Hai? E dice che non hai lasciato la stanza, giusto? No. Ci sono alcuni puzzle in avanti. E' un po' di capito. Ci sono alcuni puzzle in avanti. che vuol dire? Ci sono alcuni puzzle che non ti ho ancora spiegato? No, avanti dovrebbe essere ahead. Ah, ok. Se tu continui ci sono puzzle che ancora non ti ho spiegato. Potrebbero essere pericolosi da provare a risolvere da solo. Sì. Ma secondo te mi viene addosso a qualcosa? Sì. Ma secondo me no. Sì. Ok. Oddio. Wimson Wimson Approached Mikli Che vuol dire Mikli? Approached Mikli Doci il monte, un ilimento. Ok, quindi è tranquillo. Quindi Act Qui Wimson Check Console Terrorizza Console Ma check che vuol dire? Ah, ok. Fai il check. Ti dice attacco 5 e difesa 0. E' troppo sensibile per combattere. I have no choice. Oddio. Non voglio combattere. Che devo fare? Continue to mat. Ah, perché si fa una volta a turno. To mutter, apologize. A sentirsi. Ah, aspetta. Ok. Ok. Consola Consola vuol dire console. Halfway throughout your first word. Halfway che vuol dire? Cosa? Che vuol dire? Halfway throughout Halfway Quindi appena pronunci la tua prima parola Wimson Si mette a piangere e scappa. Praticamente appena tu dici La prima parola Lui si mette a piangere e scappa. E dice vinto. Qui c'è un punto di salvataggio. Addivise Playfully Crinkling Trow the leaves Fills you With determination Playfully Crinkling Crinkling Significa Stropicciato Trow the leaves Fills you With determination E che vuol dire? Tutto quanto insieme Playfully Significa Playfully Giocosamente Scherzosamente E crinkling Era stropicciato Sì E le leaves Le foglie Ah quindi giocare tra le foglie stropicciate ti fa sentire determinato Ok Sì sì Ok E salve E si può sapere tutte le volte che si vuole non scompare Ah beh quindi queste qui sono foglie secche Sempre Ah ok Sempre console Dice sempre le stesse parole Perfetto Ok quindi qui c'è una porta su Parliamo con la rana Ripete ripete Excuse me human I have some advice for you about battling master If you act a certain way or fight until you almost defeat them Quindi se tu act Fai una certa cosa o combatti fino almeno fino a sconfiggerli Ok They might not want to battle you anymore Non ti combatteranno più Forse If a mostro do not want to fight you please use some mercy Pietà Ok quindi se un mostro non ti vuole combattere mostra pietà Quindi Ti dice If you act or fight until you almost defeat them Ma ti fai che significa sconfiggere Sconfiggere They might not want to battle you anymore Ok 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 Io dico che quella si Torial si arrabbia Si incazza appena tocca sta cosa It says take one Caramel Prendiamo o non prendiamo Direi di no Io direi di si Don't worry I have a lot of guilt for you You took a piece of candy Solo uno ne posso prendere Ah Posso prendere più di uno You took more candy Ah perché non ho preso ancora Sono disgustose Another piece You feel like the scum of earth Vedi che si sta sentendo male quella Scum o che vuol dire? Non lo so Però penso che siano cose brutte Vedi ho tre monster candy Peccia Ok Ti sta dicendo fai schifo perché hai già preso tre caramelle Ne hai preso troppo Troppo velocemente The candy spills onto the floor Sono brutta a terra E non ne posso più prendere ora Guarda cosa hai fatto Guarda cosa hai fatto Guarda cosa hai fatto Mi cazziano Dice che c'è Ladra di caramelle Questo non ha nulla da dire sulle caramelle No Ah si può fare così per far Puntare Vabbè non salviamo per ora Oh Froget Hopped Close Hopped Hopped Che vuol Hop saltare Quindi è saltata vicino Sì Hopped Ho saltato un po' là Sì ti ho saltato da vicino Ah però vedi ti diceva Se qualcuno viene Usa mercy ti dice Spare o flee Del qui dico spare No Oddio You are intimidated By Froget's raw strength Only kidding Check compliment Treat Cos'era che era Treat? Fuggire No Scusami Minaccia Troviamo a minacciarla Non capisce cosa dici Ma si spaventa Shiver 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 Blushy deeply Blushy deeply Eh scusa Perché non sta funzionando Complimentati Poco fa ha funzionato Ah ecco Ora scusa No 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 Poco fa aveva funzionato Il complimentati Do you understand? Eh niente Non funziona Oh por Cosa miseria Treat l'abbiamo già fatto Che dice sempre questo Eh che faccio Scappo io Provo a scappare Mannaggia Provo a scappare io Sper L'ho già fatto Flee Don't slow me down Oh niente Scappo e basta Mmm Questo qui mi sa di enigma Oh porca miseria Lo sapevo Questa qui è quella Che non vuole Spar Perché è giallo You won Ok E da dove Devo passare Ma Niente Devo passare Semplicemente Dall'altra porta Perché qui Cadrò In tutti Devo Semplicemente Uscire da qui Dica Toriel Per no reason In particolare Which do you prefer Cinnamon O butterscotch Quindi Disposi senza alcun motivo Cosa preferisci Cannella O butterscotch Che cos'è Controlla Butterscotch Caramello Quindi cannella O caramello Cannella Il carino La cannella Oh Capisco Grazie Grazie Tanto Thank you Very much Di nuovo You do not dislike Quindi Non è che non ti piace Giusto Questo sto dicendo You do not dislike Do you I know what your preference is But Would you turn up your nose If you found it on your plate Would you turn up your nose Turn up Tipo Storci il naso No Non mi so Storci il naso Your nose Nel senso Se te lo trovi nel piatto Non è che ti fa schifo Giusto Questo ti sto dicendo Bene bene Capisco Grazie Storci il naso Sì Grazie Per la pazienza By the way Tipo Ma ti sei fottuta Un piatto di caramelle Ti sei fottuta Un piatto di caramelle A chi ti prendi Per il culo Vabbè a te Basta scappare Devi spostare quella pietra Sì Sicuramente Però non abbiamo letto qui Three out of four Great rocks Recommend you push them Three out Che vuol dire Three out Of four Tre di quattro Rocce grigie Recommend you push them Devono essere appunto Spostate Perché tre Questa una Questa una Sì 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 Dici che sarà dappertutto Rotto lì Ah no sono i fiori Cadi dove Cioè le foglie Tu cadi dove ci sono le foglie E quindi devo fare sto percorso di qua Evitando le foglie Moldsmall Blocked the way C'è un bollino Lo imitiamo Rimaniamo il mondo così magari se ne va You lie Immobile with small small You feel like you understand The world a little better You feel like Ti senti come se stai capendo il mondo Un po' Meglio Un po' meglio Ok Limited non ha funzionato Flirt You wiggle your hips Che vuol dire hips Quale parte del corpo è hips? Hip hip Eh? Hip trust Ah ok Le anche Quindi muovi le anche 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 wiggle Anche wiggles back No Moldsmall wiggles back Wiggles è un durazioni Sì sì Quindi anche Moldsmall lo fa indietro What a meaningful conversation E se ne va Non sta funzionando però di parlare con i mostri Sì perché non c'è quella che si viene a salvare dopo Infatti aveva detto di temporeggiare che doveva venire Ma non è venuta manca una volta Ma perché è impegnata? Attacco 6 Difesa 0 Stereotypical Curvaceously attractive But no brains Non ha il cervello Curvaceous E che vuol dire? Curvaceously attractive Slime sound Oddio Oddio E vabbè me ne vado io Tortuoso Ok quindi il percorso che dobbiamo fare noi è questo Vedi? Mhm E qui ci dirà Don't stay on the leaves Don't stay on the leaves Quindi non calpestare le foglie E qui ci eravamo arrivati Già me lo so scordato Comunque Sicuramente così Sicuramente così Sali Non lo posso attaccare Tanto per questo io ho già provato e non funziona Da qui sembra il discorso delle anche Posso solo scappare No è difficile Spera E mi ha dato uno oro E invece Non devi far testare Didn't you read the sign Non hai letto quello che c'è scritto sotto? Come? Ho detto non hai letto quello che c'era scritto Porca Com'era qui? Ah dovevo scendere tutto Devi sempre scendere tutto e salire tutto Dai che sto sentendo Non lo faccio apposta Mi dicevo sai che sto sentendo caldo? La risposta solo Guarda quello di prima Dai bene Non mi odiare per questo Devi camminare sempre bordo bordo Ma sai perché? Perché continuano ad usare l'analogico E alle minime inclinazioni si sposta di lato il personaggio Allora così No è sempre uno comunque Continua no ti faccio vedere appena Fai un attimo E almeno spunta due No sempre uno No però se tu grichi lì spunta due Vedi? Dove? Qua Vedi? Due Allora Ok vedi era qui la cosa Che erano tre di quattro Mi sa Oh perché non ti blocco? Eh il telefono Applicazione a volte capita Tutto a tre di devo spostare Wow There Pardoner Water Partner Water Who said you could push me around? Ah è la roccia che parla Partner Era tipo Scusa Per dono Che dice? Aspetta un attimo Chi ti ha detto che mi puoi spostare? So you're asking me to move over? Cioè mi hai chiesto di spostarmi? Ok Just for you Pumpkin Zucca Zuccone You want me to move some more? All right All right All this No That was the wrong direction The wrong Ok I think I got it Was the health food? Sì ma questa qui si sposta di nuovo appena io vado mi avvicino alle spine Eh infatti Si spostata You wanted me to stay there? You're giving me a real workout Ahah Are things easier when you just ask? Ahah You're a bastard Fino all'ultima Fino all'ultima ho avuto a porra che si spostasse Oh infatti Una stronza Oh si salva E quello è il topo C'è il buchetto del topo Sì Knowing the mouse might one day leave its hole to get the cheese Forse un giorno lascerà la sua tana Sapevi che il topo forse un giorno lascerà prendere il formaggio If it fills you with determination It fills you Ok ti va a sentire determinato Mausol Mausol Ah Ha sentito? Sì Eh ma io prendo il formaggio per il topo E qui da tanto tempo Puzza No It's stuck to the table Ma che vuol dire stacca? Nel bucho Si si è attaccato Appiccicato al tavolo Si bloccato Incazzato Non posso spostare il tavolo secondo te? Mmm Come potrei fare a spostare il tubo? Mmm Torno indietro Forse devo farlo tante volte Per fare che? Perché dice che il topo prima o poi lascerà la tana per prendere il formaggio Sì ma vai indietro Vabbè già sto già andando avanti Non penso che andvi andando indietro Lo stesso Ci torneremo Questo qua mi sa di fantasma Zzz 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 Pretending to sleep Vuole dormire Continua a dire Continua a dire Fa finta di dormire Vuole dormire Vuoi muoverlo a forza? No Vuoi spostare di fianco Là c'è anche una porta Il formaggio è ancora lì Il topo è ancora lì Quindi lo devo spostare Napstab look Check Attacco 10 Difesa 10 Questo mostro Sembra non avere humor Oh Sono davvero divertente Mannaggia Napstab look Is wishing That they weren't here Cioè sperava che Sperava che Tu non possibili Ok Non ha il senso dell'umore No Cheer Più che A patient Smile Quindi gli sorridi Praticamente Si Non mi fa Non sono Parliamo Non mi fa Scusate 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 Un po' Più che Sento Un po' Meglio Allora Rifacciamolo Un po' Il gioco Una Bartelletta Non ha funzionato Non è 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 Mood gain Improved Quindi si è rattestito di nuovo Quindi Voglio mostrare qualcosa Mi provo Oddio da sotto Arrivano Dapper block Ti piace? Oh, c'è un Dapper block Qual è la tua risposta? Si è lungo a comprare Che vuol dire? Non lo so, lo so scrivere Scritto così Ok, viene qua di solito perchè non c'è nessuno Ma oggi Ho incontrato qualcuno Divertente Carino Oh, I'm rumbling again Rumbling Quindi è funzionato senza lottare Sclusionato Di nuovo sconclusionato Sto divagando I'm rumbling again Sto divagando I'll get out of your way Mi sposto E' il topo? No Una strada di qua e una strada di qua Vediamo in questo che sembra più corto Spider Bake sale Bake sale Quindi All process Go to real spider Tutte fatte da ragni reali Quindi Una vendita di ragnatele Costo Meno uno Io c'ho 18 Ma si compriamo Ah Non ho soldi Come che non ho soldi Io 18G Ah ma io non ce li ho 18 Cioè io c'ho meno uno Si Come è possibile che c'ho meno uno? Scusami Ma io Ho uno Non meno uno Ah no Ok Forse il trattino Indica come se fosse Non c'è un numero lì Quindi non è uno Quindi ne ho uno solo e basta Ah hai uno È il trattino tipo lo spazio Sì 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 ok Quindi ho uno e costa Quindi non posso comprare nulla Ah ok Si dice che c'è il negozio Che potrebbe fare i miei spider Spiders 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 Cibo per Eh Fatto dai ragni per i ragni I heard using borders I heard using borders I heard using borders Can add some color to the world Borders Che vuol dire Che vuol dire tradotta sta frase? Ma perché non c'è italiano? Per impararci ad usare le lingue Eh I heard Ho sentito Ho sentito Ho sentito Che vuol dire? Ho sentito usare Ho sentito dire Può essere? No ho sentito usare Non è tipo ho sentito Che ho sentito che usando i confini I confini possono aggiungere del colore al mondo Ok la cornice mi sa che ti parla della cornice di gioco Borders Colonelle opzioni Ok You can choose them in settings Esatto Comunque There isn't a frog tamed border So it's just pointless Ok Ok You are quiet Merciful for a woman Ok Ok Quindi sei molto Merciful Quindi non mi viene in italiano Hai pietà Sì Quindi hai tipo per essere un umano dai troppa pietà Sicuramente sai You know Da adesso Un mostro Che Un mostro Veste Un giallo Ok Che ha la parola è gialla Sì Sparring Sparring Is just saying You won't fight Sparring Is just saying Si In pratica Se tu clicchi Spare Ti dico che non vuoi combattere Ok No Maybe one day You'll have to do it Even if their name isn't yellow Ah Nel tuo nome è giallo You'll have to do it If their name is yellow Ah Mi ricordo che gli auricolari Mi facciano male Che cosa? Looks Drew Mir Che vuol dire Drew Eeeh Disegno No Aspetta Disegnato Ok Check Luke Sotto a cosa è difficile Sai Don't pick On him Family name Hey Walker Un occhio che cammina Sì Please don't pick on me No Mannaggia Cioè li sto prendendo tutti Gazing at you Gazing At you Don't pick on Pick on Gazing Significa guardare Fissare Ok Ti sta fissando Quindi ti dice Fiss A lui non piace essere fissato Quindi don't pick on E se io invece lo fisso così spaventa e se ne va Io provo a fissarlo Tu non lo fisseresti No Se non vuole essere fissato Allora non fissiamo Facciamoci una mica Finalmente qualcuno l'ha capito Non ti mettere nei bordi Stai accendo Gnashes Gnashes Vabbè sta digregnando i denti Gnagnagnagna Capito Raggiunge Guarda che è diventato giallo ora looks No Ok Pick on o ancora don't pick on Don't pick on Don't pick on È sempre la stessa cosa di prima Mi dici stare Stai 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 Ti sta fissando Ancora Allora Guardalo Your little snake Your little snake Mannaggia che disastro Ora non è più giallo però No Continuiamo a non guardarlo Magari Ci sta solo provocando Ma io sono quasi morto Che bello Non possono essere tutti Mi pare che diventano più facili se non l'ho fisso No No non vieni a fare Stesse cose No aspetta forse ho capito È diventato giallo quindi forse ora posso fare spare Io posso fare spare quando diventano gialli Giallo ok Sto perché ora sono senza vita e devo tornare indietro perciò Mi ha 5 d'oro mi ha dato ottimo La ragnatela quant'era che costava? La ragnatela? 8, 6, 7 con la piccola 7 Quindi io sono a 6 Ho ricaricato la vita no? Sì 20 20 20 Quindi se riusciamo a beccare un'altra cosa che ci deve fare Se non raffrendo la ragnatela e magari con la ragnatela Becchiamo il topo Sì Sì Questo è stato un po' Sì Da Ho ricaricato la ragnatela Cioè Che è passato tanto tempo da quando ho pulito Non aspettavo di avere compagnia così presto Cioè non mi aspettavo di avere compagnia così presto Sì Sì Ci sono probabilmente molte cose che mentono Ci sono probabilmente molte cose che mentono No, nascoste Aspetta Qui e lì Qui e lì Qui e lì Sì L'altro Forse è tutto qua Allora Indraviato Mentito Disteso Bugia Menzogna Già Ah Lying about Lying about Perché dovresti cercare Lying about che mandano a Lying about No Mentire No Vado a stintare l'altra Vada Tu puoi prendere le caramelle Le puoi prendere Ma le puoi prendere Ah E io le caramelle le ho prese tutte Ha detto ci sono cose sparse qua e lì Però non prenderne più di quante ne hai bisogno Io le caramelle tipo le ho prese tutte Ma dovresti tornare indietro? Qualche giorno you might see something you really like Potresti vedere qualcosa che ti piace You will want to leave room In your pocket For that You will want to leave room In your pocket Cioè For that Tanto me tipo Vorrei lasciare la stanza Pocket e tasche Sì Quindi tipo ti vorrei riempire le tasche Sarà una cosa tipo You will want to leave room In your pocket Sì No No Ce la focca a meno There is just One switch Eh dove però Devo fare così Lui lo capisce Io scanso i pallini senza che mi uccidano Lui diventa giallo E mi dai soldi Sì E possiamo andare a comprare la regna di la pesce Quanto costava quella grande? 17 Quindi altri due ne dovremmo fare Oh guarda qui Ok ero morto Non l'ho immaginato Vegettoid Che è vegeta Che è venuto fuori dalla terra Check Dinner Che lo devo mangiare Allora Vegettoid Serving size Un monster Not Monitored by the Not USDA USDA Che cosa sarà? Bo? Non monitorato dalla USDA Ma dove antipatici sti giochini? Check Talk Talk Non gridare però Scusi Non posso non parlare le grandi Pure lui te l'ha detto Ah Devoa Che vuol dire? Devoa Divora E puoi controllare Scusa Vai Ti preoccupare In un po' niente Divora Ok Dinner all'ora Oh no Che vuol dire Ti offre un pasto salutare Ottimo Lancia di nuovo frutta e verdure E verde però Verde ti cura Ok, ora posso scappare E mi da 4 d'oro, perfetto Sotto c'era qualcosa, non ho visto La c'è un interruttore Qua c'è un piocco, che cos'ha? 2 Amigos Crawled up close Malsmol A Malsmol lo posso mandare via Bene Che fa? Balla Ballava, hai visto come faceva con le braccia? Non importa Non importa Non importa Non importa Non importa Non se lo caca nessuno, praticamente E parliamoci Continua a ballare Sì, parliamo Non importa Se non importa Non è vero Ma è solo con il risultato Non è vero Non è vero Balla solo Ti giuro mi ci andrei a buttare di sopra Faded Ribbon Faded Ribbon Faded Ribbon Armatura Che dà 3 difesa If you are cuter Monsters want to hit you as hard Praticamente un fiocco Te lo puoi mettere Ti dà più difesa Infatti si veda No, non si vede Che cazzo Ma quindi cosa dice la caramalla Ma hai lasciato la difesa Quindi E' un distico non licorice Flavor Si ma ha aumentato la difesa praticamente Si ma c'era un interruttore Si 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 Lassù Però è l'ultima che facciamo poi Ah c'è di nuovo Mr.Fantasmino We're gonna run No I can't get up Go on without me Wait Ghosts can fly Can die Oh well Vedi questa qui è qualche missione Che va portata avanti Piano piano Lo suo fantasmino Mi sa Ancora questo C'è anche questo E' un po' di mangiare va Che ho perso un po' di vita No Ok Ok ora Abbastanza oro Per andare a comprare La ragnatera Qui non c'è nulla E c'è la ragnatera Buongiorno Qui scappiamo Questo qui non fa niente Perché balla Qui dovevamo Parlare Per poter scappare Sì Lo dovevamo cercarlo Ma tantissimi soldi Si fanno così Non fai esperienza Perché rimani Rimani a livello 1 Però La voglia di soldi Beh già Abbiamo 28 Quindi possiamo prendere Sì Questa di 18 Some spiders Crawled down And give you a jug Cioè Cosa Jug Spider Cider Cura 24 With wall spiders Not just The jug Ah posso farlo Sempre Praticamente Poi vediamo pure Questa da setta Un donut Ma c'è un bello Maldato Spider donut Posso usare qualcosa Con il sorcio Con il sorcio Mi sento questo amore No no grazie Ma come faccio a sentirsi Metto pure quella Magari Posso droppare Una caramella Qui a terra Un spider donut Drop O throw away No Non c'entra niente Niente Andiamo avanti Camma fa Camma fa L'unica L'unico bug che ci manca Era questo Interruttore Si sono abbassate le spine Sono abbassate le spine Quello di qua E possiamo andare avanti Altra stanza Altra stanza Quella non è all'uscita È un interruttore Premi No Sono tutti interruttori Interruttori Iomini Si Dice che in prospezione Dice che in prospezione è tipo a rotazione Ma è E fa In quel modo Rotazione Se non è all'uscita Ci vado Cosa succede Ah è al contrario Ah ma che comunque io non sono allo stretto Posso fare sfuga Se puoi riprendere il switch blu If you read this Press the blue switch Yes Si è abbassato Se puoi riprendere il switch Ah è al cerchio Capito? No Non tanto Per ora sto andando avanti E premendo a caso io Tu hai capito qualcosa in più? No Oddio Lo sto solo facendo questo Per accumulare soldi No Non vedi che è un cerchio Queste entrate If you read this If you can read Press the green E dov'è green? Non so Come se era una cosa a cerchio Qual è? Verde Qui c'è il blu Magari sono fortunato da questo Anche io Oddio non mi hanno fatto scappare questi E' bruttissimo a due E se metto di ora? He tried it But it wasn't Weakened Weakened Non è stato indebolito E vabbè qui tutti in faccia li prendo Green Green No Green No Green Niente Green Ok Sono scappato Vabbè Ok Importante che sono uscito Però non ho capito il discorso Diceva che la porta Cosa diceva? La porta di sotto Non era un'uscita Sì C'è un albero Oddio Quindi Ha perso più tempo Che quello che pensava Praticamente Ah Non mi aveva visto Oddio che musica brutta Inquietante Sei ferito Sei ferito There I will I will heal you Mi cura Non dovresti aver lasciato Tu so tanto Non pensavo di lasciarti solo Per così tanto E' stato irresponsabile To try To surprise you Like this Well I suppose I cannot hide It Any longer Non posso più nasconderlo Come Small one Every time Every time this old tree grows And he leaves They fall right off Every time this old tree grows And he leaves They fall right off E vabbè mi sembra giusto Quindi vuol dire che ogni volta che ci sono questi Queste foglie C'erano gli alberi No Dice tutte le volte che crescono Le foglie cadono Cioè Every time this old tree Ogni volta che questo vecchio albero Cresce Any leaves Cadono Cadono Sì Questo però Quello attorno all'albero Non penso tipo queste Che ci sono in giro così E qui Just between you and me I saw Toriel Come out of here Just a little while ago She was Carrying Some Groceries Che vuol dire Perdure Ok I didn't ask What they were for Non ho chiesto per chi fossero We are all too intimidated to talk to her We are all too intimidated Sono tutti spaventati dal parlare con Toriel Sì Ti ho detto non mi ha contato giusta Toriel Oddio Quindi Toriel è venuto fuori da qui Con delle verdure Con delle verdure hai detto Toy Knife Un coltello giocattolo Vabbè un'arma Ma che posso equipaggiare sicuramente Weapon Attacco 3 Fatto di plastica Our rarity nowadays Ai tempi dolci Oggi giorno Però ovviamente noi lo possiamo equipaggiare Anche se non penso che lo useremo mai Ed ora abbiamo Weapon E Armor Fiocco Ma quindi è tipo Cioè questa qui è la città che c'è sotto È un dipinto Non capisco Se è un qualcosa tipo dipinto O una vista Ma vabbè è un dipinto Siamo sotto terra Per forza Per forza Per forza di cosa è un dipinto Molto carina Quella Quella torre sembra la torre di La cupola Di Quando siamo andati a Roma Ah vabbè Non penso c'entri nulla Sì sì No non penso Non c'è tutto Stava abortando Sono tutti intimoriti È un fastidio Non posso leggere Quello che c'è scritto lì Casa sua Senti il profumino Per presa Una torta Alla cannella E caramello We might celebrate Addirittura Per celebrare Il tuo arrivo I want you To have nice time Living Oh vedi Cioè Sto tutorial Ci vuole tenere lì A vivere Non ci vuole aiutare A scappare Quindi secondo me Andrà a finire Che noi Tenteremo di scappare E Lui cercherà Di impedircelo Lei Scusami Lei cercherà Di impedircelo Un snail pie For tonight I will hold Of snail Pie Forse c'è Forse dovreste tenere Da parte Una Una fetta di torta Per stanotte Here I have another surprise A camera Ovviamente curioserò Dappertutto Prima di andare Di là Un snail Is an old Calendar Inizio del 201X E la guerra In che anno Era stata 300 Dobbiamo rivedere L'intro Che è il calendario Del 201 Are warned They must have been Read many times Sono consumati Sono state lette Molte volte Come? Warn Consumati Vita mia Consumati E qui la stessa cosa No Libri di storia Questa È una pagina a caso Questo è importante Trapped Behind Quindi intrappolati Dietro la barriera E spaventati Dal Forter Che vuol dire Human attacks We retrated Ci siamo ritirati Quindi intrappolati Dietro la barriera Spaventati Dal Proximo Attacco Dal probabile Attacco Da un ulteriore Attacco umano Ci siamo ritirati Lontano Lontano Nella terra Abbiamo Far Lontano Far Lontano Quindi Far into the earth We walked Until we reached The cavern Quindi abbiamo camminato Tanto In fondo Finché non abbiamo Raggiunto Il fondo La fine Della caverna Questa La nostra Nuova casa Which We named Runes Home As great As our king Is He is pretty Lousy At names Quindi as great As great As our king Lousy Pessimo Schifoso E cosa vuol dire Great Lousy At names Che Quanto carino Possa essere Le re È È comunque È abbastanza Pessimo Penso a dare Nomi At names Ah ok Fa schifo A dare Nomi Per questo L'ha chiamata Casa Ok Per quanto può essere Buono È pessimo Nel dare Nomi Guarda un po' Cosa Che hanno Sono tre Due grandi Una piccola Sì Magari era una famiglia Una volta How to make them safer The hands of the truth Have been filled down To make them safer Seems like the right Sides For to have grandezza Giusta apertorial Where is a burning hot Just please And live Piacevolmente caldo Non brucia You could put your hand inside Sulle sedie non dice niente Manco questa piccolina Sì sì Bella la musichetta Fidati che andrà tutto bene La cucina There's some white Fure stuck in the drain We're stuck in the drain We're stuck in the drain We're stuck in the drain Qua ci sono i biscotti, vado a vedere che bell'odore, è troppo calda per mangiarla, ok il fornello è pulito, per questo tutorial deve usare Fire Magic, per qualche motivo, c'è una barretta di cioccolato nel frigo, una barretta di cioccolato, nient'altro, è per le scale, secondo te ci fa andare nelle scale? Vediamo, ascolta, hai sentito? Cosa? Quando siamo entrati nelle scale la musica. Si che si è bloccata. Si però si è sentito un rumore di fondo, ascolta. Allora noi troveremo qualche porta, oddio, questa ci uccide, non andare giù. Ho qualcosa da farti vedere su, madonna, sa che cosa risponde sta cosa. Che tantezza assurda. Che tantezza. Michael Jackson. E' qui. Ok, è una stanza aperta, secondo me ci vuole sacrificare, tipo. Cosa? Io un attimo sto tornando. Dove vai? Le lascio l'aria, sto tornando. Ti aspetta, allora, ce l'ho almeno, faccio... Cosa? Cosa? Allora, dovrebbe una stanza per te, spero che ti piaccia. Pure il pat pat sulla testa. Sì, perciò sentiti a casa e poi però non ci farò vedere nulla. No. Io stai conflando di 4, ma no, no. Ok, quindi comunque le piante ci sono quelli sotto tar. Questa è qui la camera di Toriel, aspettiamo a vedarla. Inizio a tra poco. E se stanno ancora qui. Un calico. Non under renovation, ristrutturazione. Uno specchio. Va bene, bevo qualcosa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non lo sposti, certo lo sposti. Grazie. Oh, questo è così poco? No, non me ne sono accorto. Ne vuoi ancora o di bassi? Sì. Grazie. Ecco. Che c'è? Allora, qui ci ha detto sentiti come se fossi a casa tua. E poi non ci fa andare giù, comunque. C'è una stanza chiusa che dice in ristrutturazione. È la sua stanza, però prima di entrare nella sua stanza per leggere, ho aspettato te. Questa è la stanza di giù? Scandalosa. Sopra, è il cassetto dei calzini. Un'enciclopedia delle piante sotterranee. Tifa, a group of wetland flowering plants with brown oblong seed oats. Quindi un gruppo di wetland flowering plants con marroni oblunghi baccelli. No more cornery as water, salsicce, salsicce d'acqua. Ah, ok. Le piante, sai, quelle cose marroni in cima. Sono tipo spiga. Non posso vedere quel fiore di lassù. No. Definitivamente bigger than a twin-sized bed. Toriel, snorcella. Il suo nome è Chairwyr. Ma addirittura. C'è pure un nome. C'è un segno rosso qua. Eh, sì. Facciamo il cestino prima. Cesta regola ha il duveto snayet. Of nays, scusate snayet. Refuge. Il diario editorial. Vuoi leggere il passaggio sottolineato? Yes. Vedi il passaggio. Perché lo scheletro voleva un amico? Il passato, no? Did. Sì. Perché lo scheletro voleva un amico? Perché lo scheletro voleva un amico. È una battuta. Il passaggio è un amico. Il resto dei pezzi sfiled with jokes. Oh, signor stavico. Ma, ma, ma. Qualcun pensavo... Sista che. Magari ce lo dobbiamo ricordare dopo per una lotta con lo scheletro. Ok, vediamo camera nostra. Ok. O andiamo prima... Proviamo ad andare di nuovo giù. No, andiamo prima camera nostra. Rossa. Bruttissima. Giocattoli. Non sono interessanti. Il letto non ci so. No. Non volevo dormire nel letto. Ci ha lasciato la torta. Quella che aveva detto ce la lasciava per stasera. Sì. Una cornice vuota. E' subito il tasto. E' impolverata. Una box of kids shoes. Dispatici of sight. Questa se non è collezionato a bambini. C'è... Eh, lo può essere. No, no. Prima di prendere la torta lo proverei a vedere. Poi non lo so. È notte, è giorno, non ti capisco. Proviamo ad andare di nuovo di là. Oddio. No, 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 non ti fa andare. I think you should fly upstairs instead. Allora, per esempio, riprovare a scendere. Penso non cambia situazione. Penso sia la stessa scena che si ripete. Sempre la stessa cosa ci dirà. It's dangerous. Sì, per giocare qui. Sì, ma se è continente non è cambia sempre la frase. No, anche perché all'inizio del gioco questa sarà una cosa di scoprire più avanti. Drafty, user catch a cold. Sì, sarà un tot di frasi. Seguilo allora. Prima vediamo la torta. Sì, sarà un tot di frasi. Già sveglio. I want you know how glad... Sono felice di averti qui. Ci sono tanti vecchi libri che voglio farti vedere. Il mio preferito... Bug hunting spot. Quello sugli insetti praticamente. Ho anche preparato un curriculum per la tua educazione. Una specie di lista di cose che poi non puoi fare sarà. This may come as a surprise to you. But I've always wanted to be a teacher. Ti sorprenderemo, ho sempre voluto essere un insegnante. Attualmente, però... That isn't very surprising. Non è tanto sorprendente. Ancora. Sono felice che tu vi va qui. Ho capito. If you want something, what is it? Che c'è? When can I go home? Vedi? Lui vuole tornare a casa giustamente. Perché è caduto lì. Il video non ti vuole far andare via. Ti vuole tenere lì. Would you like to hear about this book I'm reading? 72 Usi per i rifiuti. Ricicla! Malati di risparmio! Ehm, how to exit? Non c'è questo. Non c'è un po' di farlo. Did you know that snires something flip their digestive system as they mature? Sometimes flip their digestive system as they mature. Che vuol dire? Ok, volta flip their digestive system. Aspetta me la posi, perché guarda il telefono. Informareakan move le proglie un'istate. Ok, volta la poche c'è un'istate. Il fr cripple. A volte cambiano i sistemi digestivi come maturano No Sto nella camera quella chiusa Dove sei quando te? Giù? Sì Ah cazzo Volevi sapere come tornare a casa no? Ahead of falls lies the end of the ruins Ahead? Cosa che volevo dire? Davanti Ok quindi qui davanti c'è la fine delle caverne Un unico modo per uscire Da qua sotto I'm going to destroy it Sto per distruggerlo Ci vuole un prigionare lì con loro No one will ever be able to live again Again Quindi qualcuno se ne è già andato Qualcuno che viveva con lei Sì qualche E hai visto che c'erano un paio di scarpe Now be a good child and go upstairs No We are not a good child We are not a good child Every human that falls down here Mets the same fate And via I have seen it again and again They come They come They live They die They die You name child If you leave the ruins Aspetta name Name significa ingenuo If you leave them Dei Asgore Asgore You name Asgore Dei The name Asgore Ovviamente no. A noi piace il pericolo. Non provare a fermarmi. This is your final word. Questo è l'ultimo avvertimento. Secondo me, moriamo. Game over. So badly. You are just like the Odensei coming to theater. There is only one solution to this. Prove yourself. Prove to me. You are strong enough to survive. Toriel, block the way. Toriel, block the way. Toriel, block the way. Toriel, talk. You couldn't think of any conversation topic. Oh, madò, madò, madò. Che brutta fine che farò. Toriel, l'attacco attacco di 80. No best for you. Conosce la cosa migliore per te. Toriel looks too cute. You tried to think of something to say again, but... Oh, madò. Preacting loot. Ironically, Toriel does not seem to be the solution to this situation. I think you don't want to apply. I insist. I don't think so. Fini delle linee di dialogo. Finita. Non posso fare altro. Ho sbagliato l'altro. Ho un altro talk. Non posso fare altro. Lo devo fare. Non penso funzioni. Beh, non penso funzioni. Immersi. Cosa che c'è l'affitto? Spera l'affitto? Spera l'affitto. Immersi. Aspetta, spera l'affitto. Spera l'affitto. Spera lì. Spera lì, scappa. Ma non ti fa scappare. Non posso fare niente. Devo morire e basta. Eh, vabbè. Devo un tiro in pista, no. Inutilmente, mi sa. Spera lì. 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 Ma io non mi faccio uccidere. Non devo fare. Non posso fare altro. You couldn't see. Eh, niente. Qui si ripetono sempre le stesse cose. Qui, bene o male, non so capire come evitarli, però. Ho sbagliato. Bello questo. Tutti così dovrebbero essere. Spera lì. Cosa stai facendo? Cosa stai facendo? Attacca o scappa? Non. Ci vediamo che... Cosa stai facendo? Cosa stai facendo? Cosa vuoi dimostrare? Spera lì. Che devo fare? Stop it, fermati Stop it non l'avevo ancora detto Stop looking at me in that way No, prima o poi si ripeteranno Non può cambiare sempre No, no dai Che devo fare? Non è che se ne ero andato su flea Proviamo 10 volte Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Nove Nove Stop it Tre puntini Non dice nulla Guarda la sua parte Ah, capito I know you want to go home I know you want to go home, but... But please go upstairs now I don't know I don't know I don't know I don't know We can have a good life here Why are you making this so difficult? Non può essere cambiato qualcosa Non può essere cambiato qualcosa No Please go upstairs Non capisco Non capisco Westeri infelice Troppo strano Troppo strano in sembrato Tutto questo Look by my child Troppo strano mi sembra tutto questo Questa porta sembra che sorride 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 Questa ora moriamo malissimo C'è qualche mostro qui in fondo Tu che ne pensi? Magari non c'è niente Mh Diventa sempre più chiaro Chiaro Eh sì, moriamo Aspetta che mi curo Perché moriamo? Non lo so però non voglio curare Perché il fiore è quello dell'inni E ora lei non ci salva O ci salva ed è ricominciato da capo il gioco Ah, dici Do you think you're really smart? Do you think you're really smart? Go to mind o uccisi o un ucciso so you were able to play by your own rules so you were able to play you spared the life of a single person I bet you feel really great you didn't kill anybody this time no ucciso non hai ucciso nessuno questa volta si è finito il gioco but what will you do if you meet a relentless killer che vuol dire relentless è come se fosse tipo sta facendo il recap della partita questa volta non hai ucciso nessuno ma cosa farai se incontrerai un implacabile killer you'll die and you'll die and you'll die until you tear of trying what will you do then will you kill out of frustration or will you give up entirely on this world or will you give up cioè tu molleresti completamente questo gioco questo mondo and let me inherit the power to control it and let me inherit I'm the prince of this world's future io sono il principe del futuro di questo mondo don't worry my little monarch my plan isn't regicide regicide il mio piano non è un regicidio quindi lui è il principe vuole diventare il re di questo mondo ma non ti preoccupare non voglio uccidere il re this is so much ma questo è molto interessante lo scheletro questo chi dici è l'inizio vai a destra a sinistra undertile by toby fox siamo usciti there is a camera c'è una camera nascosta nel cesfuglio si come c'è una camera nascosta nel cesfuglio cioè il gioco sta iniziando ora come sta iniziando ora ma noi siamo ancora dentro la montagna o siamo usciti dalla montagna no siamo usciti perché ci sono quegli alberi ma noi parliamo di undertale parliamo di un mondo dove sono stati confinati i mostri se fosse un mondo sotto il bastone è pesante ovvero sarà murrano oddio chi è che l'ha affestato è stato rotto come se nulla fosse c'è qualcosa di invisibile che mi sta seguendo ti sto coprendo totalmente ma non c'è non mi credo che continua a camminare così oddio l'hai visto cosa un'ombra nera che mi seguiva è spuntata sul bordo proprio a sinistra ora rispunta sicuro guarda la musica sta anche aumentando no 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 io non ci voglio passare da lì perché mi butta giù è fermo però sta andando solo human non 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 sai come to greet valuta raccogliere un nuovo compagno amico girati scuoti la mia mano non lo fa vero scappa lo scheletro che cos'è sto rumore che cos'è sto rumore che cos'è sto rumore che cos'è sto rumore no vabbè ti hai sentito rumore di una scorreggia è perché nella mano c'aveva la cosa con il cuscino che scorreggiava è sempre divertente comunque sei un umano certo? questo è hilarious io sono sens sens the skeleton I'm actually supposed to be on watch for humans right now I'm actually supposed to be on watch for humans di essere in onda per gli umani fino ad ora può essere to be pensavo di essere to be on watch on watch che vuol dire? essere guardato essere guardato fino ad ora pensavo di essere but you know I don't really care about capturing anybody non mi interessa catturare nessuno ora mio fratello papirus lui è un cacciatore di umani fanatico sì attualmente credo che è lui qui da qualche parte sì ho un'idea vai per questo gate thingy sì vai per l'interno il mio fratello ha fatto le bar troppo per stop qualcuno troppo strette troppo larghe troppo larghe per stop qui behind the conventionally shaped lamp la mia sagoma questo il fratello è suf bro you know what suf brother it's been 8 days and you still even recalibrated your puzzles sono passati 8 giorni non è ancora ricalibrato i tuoi puzzle you just hang around outside your station you just hang hang around hang around c'è la canzoncina quella del trailer per ora restare restare you just resta outside your station ah sei rimasto fuori dalla tua stazione cosa stai continuando a fare star and this lamp it's really cool do you wanna look no i don't have time for that non ho tempo what if a human comes throughout here e se un umano attraversasse cioè arrivasse qui passasse di qui devo essere pronto devo essere pronto sarò il primo sarò il primo devo essere il primo catturerò un umano tutto quello che desideravo rispetto riconoscenza finalmente sarò in grado di entrare nella guardia reale le persone chiederanno vorranno essere mie amiche le persone the people sono mostri we but in a shower of kiss every morning sarà sommerso di di un bacio maybe this lamp will help you che continua a provocarlo sulla lampada since you are not helping you lazy bones let's create drop out all you do is sit and boondougal picorone oh ok picorone all you do is sit and boondougal you get lazier and lazier every day oh come si dice quando ozzi ozziare quindi non fai niente tutto il giorno lazier più pigro no ah diventi ogni giorno più pigro take it easy stai tranquillo i got a ton of work done today ton perché è scritto giallo ton ricordiamoci su ton scritto giallo ton giallo scheletto perfetto ho fatto pure l'altro batteria sai sanzo come on you're smiling i'm i am and i ate lo tono e lo odio why does someone as great as me i have to do so much just to get some recognition what am like if you're really working yourself don't toot the bone i will attend to my puzzle as for your work put a little more backbone into it come si salva? come si salva? come si salva? it's some sort of checkpoint or sentry station but there are bottles of ketchup, mustard and relish sitting inside you'll have to sit through tomorrow you'll have to sit through tomorrow for my hilarious jokes sit through it's just a dark cavern filled with skeletons and horrible monsters comunque dice che è ancora dentro la caverna è ancora dentro la caverna perché vi sta dicendo è solo una caverna piena di scheletri e mostri orribili allora you gotta get going ok forse lo ripeto you gotta get no si ma non lo fai leggere no è sempre la stessa cosa dice la prima frase ravitami sta attendo perché ora va perché potrebbe tornare there is a camera behind the sentry station perchè ci sono le telecamere? ma sono le telecamere degli umani o le telecamere dei mostri? hey it's too bother you but can you do me a favor? odio chiederselo ma potresti farmi un favore? stavo pensando mio fratello don't let me ok c'è my brother's been come da un lato è un po' giù ok è un po' giù ultimamente non ha mai visto un umano e vederti potrebbe rallegrare i suoi giorni potrebbe fare la giornata non preoccuparti non è pericoloso it tries to be se lo fosse even if anche se it tries potrebbe provare ad esserlo potrebbe esser potrebbe sembrarlo pericoloso anche se potrebbe sembrarlo thanks a million grazie a million i'll be up ahead saprò saprò ricambiare può essere? no i'll be ci sarò avanti ci sarò è un modo di dire ah ah e essere più avanti ci sarò più avanti sì ne sento più avanti potrei contare su di me se mi fai questo favore eeeh niente continuo ad andare avanti ci sarò ci sarò un checkpoint probabilmente ora sì il confidence of that lamp still fills you with the termination va bene direi che può passare così per stasera riprendiamo mi sa settimana prossima va bene buonanotte